Il Vangelo che mi ha appena ascoltato ci ricorda fondamentalmente due cose molto importanti. Il primo è che la prova dell'amore sincero nei confronti di Gesù, dell'osservanza dei suoi comandamenti, tutti, anche di tutto quello che appunto il Vangelo ci ha detto. Lui stesso dice che accoglie i miei comandamenti e mi osserva, questi mi hanno. E poi un'altra grande consolante, bellissima verità, chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io avrò attenzione e mi manifesterò a lui. Cioè il Signore promette di rivelarsi in maniera intima e personale, misteriosa, significa che ci appare in visione, ma non per questo meno vera, a chiunque lo ama. La nostra santità consiste fondamentalmente nell'imparare ad amare con tutto il cuore Gesù. Ecco perché è così importante, adesso stiamo a metà del mese di maggio, nel mese di giugno, avremmo molto, molto di parlare di questo, e il contatto a cuore a cuore con Gesù, soprattutto nell'eucharistia, perché è lì il luogo dove lui principalmente desidera essere amato da noi. Ancora, continuo a dire, chi non mi ama, non osserva le mie parole. Quindi se uno osserva la mia parola, si dirà che mi ama, ma chi non mi ama, le mie parole non osserva, perché è chiaro, se io voglio bene Gesù, lo amo, è chiaro, se sento una cosa che mi dice, anche se è difficile, tipo, se uno gli dà uno schiaffo, non c'è l'altra guancia, ma se lo amo, se gli ho detto così, va bene, cercherò di farlo, anche se è tanto difficile. Ecco, l'amore è sempre verso Gesù, mai verso le letture umane, la seconda riflessione che parte dalla prima lettura. Abbiamo visto la prima lettura, allora, Paolo e Paolo si trovano in territorio pagano, dove ancora trovano i dei, Zeus, Hermes, Suone, Marte, che succede? Stavano plegando il Vangelo, vedono uno, abbiamo sentito che era paralizzato dalle gambe, dalla nascita, vedono la città della fede e San Paolo gli dice, alzali dentro in piedi, questo momento si alza. Avete sentito che volevano fare, hanno chiamato il tragetto passaggio di Zeus e hanno preparato l'antare, capite, per offrire un sacrificio tori a chi? A Paolo. Cioè, gli dei sono escessi sulla terra, quindi capite, l'attribuire un fatto divino, di cui San Paolo è stato semplicemente lo strumento, all'uomo, e quindi attaccarsi all'uomo, questo è stato un gravissimo peccato di colatria. E San Paolo va a fare un uva fatica, a difendere, a fare niente dell'essere umano che vuoi, la cosa importante è che lasciate perdere tutte le sciocchezze degli dei che vi convertirei a Dio perché lui ha fatto un miracolo. Alla fine ci sono riusciti, l'abbiamo sentito, faticano. Quindi, ecco, e così dicendo dove riuscire, così dicendo riuscire, ma fatica a far resistere, a farlo da un frio a un sacrificio. Noi dobbiamo imparare a non fare mai nulla, è l'amore degli esseri umani, perché certamente nessuno oggi, come dire, pensa che un uomo sia Zeus e gli vada a fare un sacrificio, però possono esistere delle forme di donatria umana, mi assicuro che è così. E questo capita anche nelle cose spirituali, specialmente quando qualcuno trova il confessore o il direttore spirituale, anche in questo c'è abbastanza esperienza, e comincia a fare le cose, non per amore di Gesù, ma per farsi pello davanti al confessore. E' una cosa molto sottile, ma per sicuro che non è rara. Questa cosa dispiace molto a Gesù, perché se uno ha trovato, grazie di trovare un buon professore, un buon direttore spirituale, quello non è Dio, è l'amico del tuo sposo, è uno che ti aiuta, come dire, nel tuo cammino verso il Signore, ma tu devi fare le cose per il Signore, tu devi piacere al Signore e non al confessore. E' molto sottile questa cosa, però, bisogna farci attenzione, tutti dobbiamo farlo. Anche io, io mi devo fare una cosa per essere bello davanti al Gesù, capite? Oppure sperando che una cosa bella l'ho fatto, guarda la Santa Sede e lo sappia il Papa, per dire, non c'è il Papa, c'è peraltro a cui pensare, ma però tutti possiamo essere dettati in questo modo, ma Gesù vuole che noi amiamo lui, lo ringraziamo per gli uomini che ci dà, lo ringraziamo per i ministri suoi, per la Chiesa, per tutto, ma sempre lui deve essere il punto a nostro riferimento. Lui, insieme alla Santissima Madre, che tanto, come insegnano i Santi, quando si fa una cosa per Maria, per Maria si può fare, è l'unica eccezione, Maria la prende e la porta direttamente a Gesù, ma dopo Gesù e Maria, stop, tutte le altre cose non devono essere mai fatte, né per amore nostro, né per amore delle altre creature. Chiediamo a Maria Santissima che così ci aiuti e che soprattutto ci insegni ad amare il suo figlio Gesù con un cuore non di uguale, ma simile a quello con cui lo ama lei. Siamo adorati Gesù e Maria. Siamo adorati Gesù e Maria.